Il decreto è legge il decreto banca che definisce gli attesi criteri per i rimborsi agli investitori che si sono visti a zerare obbligazioni e azioni delle quattro banche salvate per decreto nel novembre 2015, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento dopo l'approvazione della Camera a seguito della fiducia apposta dal Governo. Tra l'altro l'approvazione arriva proprio mentre il sistema del credito è sotto i riflettori dopo l'effetto Brexit. Dal punto di vista dei criteri viene allungato da 4 a 6 mesi il tempo entro il quale gli obbligazionisti potranno presentare istanze a derogazione del rimborso pari all'80% della cifra perduta. I criteri che consentono l'accesso sono un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro o redditi ai fini IRPEF inferiore ai 35.000. In questo senso si intenderà il reddito complessivo e non quello lordo. Per tutti gli altri resta in piedi l'arbitrato, una strada già fortemente criticata dall'Unione dei consumatori. Insomma, un'estate tutt'altro che tranquilla per gli ex obbligazionisti delle quattro banche che nonostante il periodo di vacanze sono sempre in prima linea con i loro striscioni. L'ultima manifestazione dell'associazione vittime del salvabanche era stata proprio ieri a Roma in attesa del voto di fiducia.